La televisione può essere pericolosa se usata indiscriminatamente, soprattutto per chi non ha ancora la possibilità di distinguere. Per questo la Sette ha firmato il codice di autoregolamentazione TV e i minori, per tutelare i diritti e l'integrità psichica e morale dei più piccoli. E apportare contributi positivi allo sviluppo della loro personalità. Per garantire il massimo rispetto della loro persona, senza strumentalizzarli a scopo commerciale e per evitare il pericolo di una dipendenza dalla televisione ed imitazione di modelli trasgressivi. La segnaletica aiuta a scegliere. Verde, programma rivolto e dedicato ai minori. Giallo, programma da vedere insieme ad un adulto. Rosso, programma non adatto ai minori. La Sette, insieme al Comitato di Applicazione del Codice e al Ministero delle Comunicazioni, si impegna a difendere i diritti dei minori. Grazie a tutti.